Traiettorie già lanciate La nuova civiltà del terzo millennio, attraverso Pietro Ubaldi. La liberazione dal dolore non si può raggiungere che per due vie. Se si tratta di cause già poste, di traiettorie già lanciate, non vi è che subirne gli effetti. Allora le forze da noi mosse continuano fatalmente a muoversi nella direzione da noi loro impressa e ciò fino al loro esaurimento. Nulla si può fare se non subirle fino a questo esaurimento, tutt'al più tentando di correggerle con l'introduzione di nuove spinte che ne modifichino lentamente la traiettoria. Se ponemmo delle cause errate, la liberazione delle dolorose conseguenze, non si può raggiungere che attraverso il dolore. Allora è necessario espiare, ricostruirsi faticosamente, con tenacia, nella miseria in cui giacciono i vinti, in questo caso non della forza, ma della giustizia. Noi! Grazie a tutti